E ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Eletro16 e oggi siamo in un nuovo video Intanto raga, ho la skin di Giovanna, perché ho la skin di Giovanna? Perché da Java è più bella Cioè, c'ha il pugno che è bello, vedete? Intanto raga, vi dico anche che sto registrando questo video non dal tablet Ma qua c'è un buco, va bene? Ma bensì dal telefono Ciao coso Quindi raga, sto registrando... ok, mi stavo preoccupando Allora, sto registrando questo video dal telefono Quindi non ho la più palida idea di come venga Perché intanto la barra qua sopra non si vede, vedete? Qua si vede poco e niente, si vede però la barra qua in basso Ed è una cosa buona, però adesso direi di iniziare con il video Come il primo SCP che andiamo a vedere oggi Il primo SCP è l'SCP 151, ovvero il dipinto del mare Il suo token è molto complicato da fare Anzi, non è neanche facile Perché, cioè, vabbè, il secchio d'acqua è facile Però è prismarino È un po' difficile Comunque Di questo SCP a riguardo non c'è quasi nulla da dire Perché? Vi spiego subito Allora, l'SCP Ecco, molti lo conosceranno È questo dipinto Che praticamente Se noi andiamo in slash Game Mode S Invio E lo guardiamo Vedete? Prendiamo Danno Ma se non lo guardiamo Non prendiamo danno Cioè, questo è quello che fa in sostanza Se lo guardiamo Prendiamo danno Se non lo guardiamo Non prendiamo danno Tuttavia Se noi muoriamo Faccio anche vedere Che se noi Muoriamo da lui Ci dice che Elettrose Dici È affogato E niente Questo è quello Che fa Questo SCP Non c'è quasi nulla di più da dire Prossimo SCP L'SCP 2430 Molti non lo conosceranno Ma io lo conosco E vi dico anche che non è molto bello Perché già da come Da come è fatto il token Forse capirete già Qualcosina Sì, raga È l'SCP 2430 Hitler Vabbè, l'ho detto Comunque, questo è il token È molto facile Se vi chiedete come si ottene la cenere Ve lo spiegherò più avanti Perché, allora Si ottiene in due modi Il primo è Nelle celle Il secondo è da un altro SCP Che vedremo più avanti L'ingresso alla cella È quasi impossibile Perché nella cella Ci sono queste torrette Che si chiamano Hostile Assault Golem Che sono Come dice il nome Hostili E ce ne sono tanti Tipo ce n'è uno qua E anche qua Comunque Sono anche molto resistenti Qua c'era anche un quadrotipo E ecco Vedete Qua c'è anche della cenere Nella sua cella Ce ne sono tre Nella sua cella E l'SCP Comunque non c'è neanche Nulla da dire Questo qua È l'SCP È proprio Vedete che è Hitler Sì Perché lui L'SCP 2430 Si chiama Immortal Hitler Clone Infatti Lui è un clone Fedele Del noto Adolf Hitler E come dice il nome È immortale Infatti Se noi lo prendiamo A spadate Con la telekill Che la telekill Cioè Capiamoci Intanto Non va Allora Vedete quanto danno fa Vabbè Tutta sta parte La tagliano Comunque Vedete quanto danno fa Lui comunque Non muore Con tutti questi colpi Per ucciderlo Bisognerà utilizzare L'attacco secondario Inoltre Laga Lui non mostra Neanche segni di vita Cioè Lui possiamo andare In sopravvivenza Dargli pugni Ma lui non fa nulla Lui neanche si muove Lui resta fermo Immobile Ed è quasi Coglione Possiamo dire Che lui è tipo Coglione Tipo Che poi Che poi Come guarda Vabbè Allora direi Di passare avanti Col prossimo SCP Ultimo Cioè In realtà Non so neanche Ultimo Però vabbè Il prossimo SCP È un SCP Anche questo Semplice Ed è l'SCP 330 Ed è Veramente Molto semplice Non è una cagata Perché Vedete Già il token È facile Con l'argile E lo zucchero Tanto qua c'è il label Perché nella c'era Non c'è Comunque Se vedete Tutti questi Scaffari Non c'è nulla C'è semplicemente Questo Cosa Che Se ci Clicchiamo Dicc SCP 330 È l'SCP 330 Allora ragazzi Stavo dicendo Che Se noi andiamo In Game mode S E clicchiamo Con il destro Ci ha dato Una caramella Arancione Se riclicchiamo Ci ha dato Di nuovo Una caramella Arancione E Ma Se noi Clicchiamo La terza Volta Intanto Noi possiamo Anche spaccarlo E ce lo ridà Si Prendine solo Due Perché se noi Prendiamo La terza Caramella Moriamo E dice Only two candy Manco si mette A fuoco Io giuro Che bestemmio Se non si mette A fuoco Quindi raga Abbiamo la conferma Che Non farò più video Da Telefono Dunque raga Allora Intanto Rientriamo Dalle caramelle Perché devo dire Un'ultima cosa Ovvero Che ragazzi Questo SCP Non ci dà Solo le caramelle Arancioni Ma ci dà Queste altre Caramelle Ovvero La caramella Arancione Azzurra Blu Gialla Rossa Verde E viola Queste sono tutte le caramelle Che ci può dare Che Si Diciamo che è un SCP Abbastanza buono Solo che in hardcore Non ve lo consiglio Assolutamente Comunque direi di passare avanti Perché Cioè Siamo durati poco Che i tre Sono stati Tutta una cacata Ora vediamo Qualcosa di grosso Infatti La cella è anche Una delle più grandi Ovvero SCP 354 Ovvero La red pool Che questo è il suo token Non si vede Perché Ok È molto complicato Perché Blocco di Verruca del Nether E nether Sono Cioè Il blocco Della verruca È difficile da avere Nella 1.12 Però Nether Sì Comunque Questo SCP È molto Famoso È anche Molto complicato Da spiegare Perché La sua cella È molto grande Perché La sua cella Dovrebbe Ricoprire Tutta la sua Area Di contenimento Che è L'area 354 Comunque Raga Io sto facendo Da questo lato Ma anche Dall'altro lato Perché Possiamo andare Anche dall'altro lato È la stessa cosa E voi ovviamente Vi ricorderete Chi è il 354 Eh Eh Qua c'è roba Anche utile Frecce Arco SCP 354 Ma c'è anche Veste antifrecce Ma questo qui Che è molto utile Che vi andrò a spiegare Più avanti E altre frecce Comunque raga Se notate Io vado Da questa parte C'è uno zombie Perché qua La luce È veramente Poca E Sì Vedete Ci sono le stesse scale Qua c'è un altro piano di sopra E ci porta direttamente Da questo qua Che è l'SCP L'SCP Vi vado subito a spiegare Che È Questo liquido qua Che si chiama Liquido Della pozza rossa Questa qui È la pozza rossa O'SCP 354 Vedete che La possiamo utilizzare Intanto Slash 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 Clear Ok Vedete la possiamo utilizzare Eh sì Eh però È peculiare Perché Questa pozza Può generare Variati mostri Infatti se noi cerchiamo 354 Abbiamo i mostri Che genera Che adesso direi di prenderli Tutti quanti Sì Li abbiamo presi tutti E li vediamo Uno a uno Sono tutti ostili Quasi tutti Tranne lui Che ve lo andrò a spiegare Più tardi Il primo 354 Uno Che non c'è nulla da dire Questa specie di Pterosauro Che può volare E non c'è quasi nulla da dire Intanto prendiamo anche La telekill Il prossimo è 354 Tre Che Anche questo è ostile Vola Quando vi attacca Vi da Wither Ma è particolare Perché se noi L'uccidiamo Avete visto Cosa ha fatto Eh Causa un'esplosione Qua si è buggato Si è buggato tutto No che cazzo ha fatto Ok raga Non entriamo più In quel cianco Che si qua Chiudiamo Qua ho fatto un casino Comunque questo scp Il 354 Tre Molto forte Poi 354 4 Non c'è nulla da dire Non si mette a fuoco Por Ok ora va a fuoco E questo qui E non c'è quasi nulla da dire Poi 354 4 Ah ok Allora Questo qua Si trova generalmente Nella pozza rossa E fa questa imitazione Molti di voi lo conosceranno Questo qua Perché è abbastanza conosciuto Poi 354 15 Anche di lui Non c'è nulla da dire È semplicemente un lupo di gaccio Però c'è qualcosina da dire al riguardo Poi 354 16 Che sarebbe Lui Lui è neutrale Ovvero attacca solamente se è provocato Inoltre lui Ha a che fare con lui Perché se noi li mettiamo insieme Questi qua si attaccheranno E dovrebbe vincere lui Quello di magma Infatti ha vinto quello di magma Ma se io lo respawno L'ha ucciso Questo lo respawniamo Da un'altra parte Ovvero Qua E Ultimo Il 354 18 Che anche lui Non c'è nulla da dire È semplicemente questo Android Che se noi lo uccidiamo Si Materializza Tipo smaterializza Tipo guardate Vedete Cioè Sparisce E anche di lui Penso che non ci sia nulla da dire